Greenpeace non ha una posizione pre-impostata per quanto concerne il UKIP. Quello di cui siamo portatori è un interesse europeo. Noi siamo assolutamente coscienti della capacità, della possibilità che l'Unione Europea ha di raggiungere delle politiche ambientali, delle politiche agricole, delle politiche di salute pubblica serie grazie al fatto che una serie di diversi interessi vengono messi sul tavolo e si arriva ad un accordo in maniera abbastanza trasparente. Quindi siamo difensori di una politica europea seria. Non ci piace il tipo di atteggiamento distruttivo che lo UKIP sta portando all'interno del dibattito europeo. Questo non vuol dire che il UKIP possa avere delle posizioni per quanto concerne singoli argomenti che sono simili alle posizioni che Greenpeace porta o che siano simili alle posizioni che il Movimento 5 Stelle porta che in alcuni casi sono assolutamente vicine alle posizioni di Greenpeace.